Se ne sta al bar a rilassarsi un po' e ad un certo punto vede più un bar in strada un paracadute. È successo oggi intorno alle ore 13 al pescatore fanese Daniele Capodagli che si trovava in zona Zuccherificio a Fano. Dopo uno spavento iniziale si è avvicinato preoccupato dalla possibile presenza di un paracadutista e invece... A un tratto ero fuori un bar vicino al Zuccherificio, sento stong e mi vedo paracadute vicino alla macchina. Immagino che si è preoccupato. Eh sì, cercavo il paracadutista, guardate, ma era solo il paracadute. Ho chiamato subito i carabinieri, mi hanno chiamato la questura, hanno chiamato i paracadutisti, sono venuti, l'hanno raccolto e sono andati. Quindi probabilmente è caduto accidentalmente da un aereo. Penso, proprio di sì, è arrivato dal cielo. Il problema è che è caduto proprio tra due autovetture, per cui poteva colpire una di queste oppure anche una persona. Un'autovettura in circolo, cioè è uguale, faceva i danni. Poteva andare peggio. Sì, 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 mi ci mancava solo questa, guarda. Nel pomeriggio abbiamo contattato la scuola di paracadutismo situata a poche centinaia di metri dal luogo dell'accaduto. Il presidente dell'associazione ci ha confermato che dopo un lancio da un velivolo, ad una persona non si è aperto il paracadute principale. Dunque la procedura necessaria da seguire in questi casi è proprio quella di sganciarlo per permettere l'apertura del paracadute secondario d'emergenza. Insomma, tutto bene, quel che finisce bene.